La Toscana insieme a Sardegna, Puglia e Campania ha presentato il 9 agosto ricorso alla Corte Costituzionale contro l'autonomia differenziata, il disegno di legge che darebbe possibilità alle regioni di diventare a statuto speciale, promosso dal ministro Calderoli che, secondo la regione, sarebbe in contrasto con gli articoli 116, 117 e 120 della Costituzione. 13 in tutto i punti del cosiddetto Spacca Italia che andrebbero contro la Carta Costituzionale. Gianni ha illustrato le motivazioni di questa scelta. Quello principale è il fatto che, a mio giudizio, la legge di Calderoli contraddice quello che è lo spirito dell'articolo 3 dell'articolo 116 della Costituzione. Individua una serie ampissima di materie, 18-19 materie, in modo generale e quindi le regioni, se vogliono, con questa legge diventano regioni a statuto speciale come quelle cinque che vi sono. Ecco quindi lo Spacca Italia. Quando invece l'articolo 116 della Costituzione chiedeva particolari forme di autonomia, ovvero il leggere in ciascuna regione quello che è specifico di quella regione che può essere gestito in autonomia. È per questo che Gianni sottolinea come la Toscana potrebbe già, con tale articolo, ricevere alcune autonomie gestionali date dalle caratteristiche della regione, come per esempio per la geotermia, presente quasi esclusivamente in Toscana rispetto al resto d'Italia. Se dovesse essere accolto il ricorso, cadrà la legge sull'autonomia differenziata, altrimenti saranno i cittadini toscani a decidere sul tema con un referendum specifico. Riteniamo in questo caso che Calderoli abbia sostanzialmente interpretato in modo esattamente opposto con questa legge quello che voleva la Costituzione indicando le condizioni particolari di autonomia.